e ciao a tutti i ragazzi bentornati qua con il nostro telecomando dei ledger allora cominciamo con un nuovo video allora innanzitutto siamo arrivati agli 83 esimi iscritti 83 esimo iscritto più 1 metterò il risultato qua da qualche parte e quindi come ricordo c'è il concorso che sono 100 iscritti sono 100 iscritti il concorso e quindi avrete l'onore di fare un video con me e otterrete la maglietta del canale che vi metterò qua la foto per farvi vedere com'è qua qua sopra al posto della sua faccia la prima della maglietta e otterrete quella maglietta di gratuitamente in quanto siete ospiti del canale per partecipare dovete solo lasciare un mi piace condividere e scrivere un commento sotto con scritto voglio partecipare hashtag partecipo al concorso no hashtag partecipo al concorso più uno ok ok e se io vincitore del concorso sono di agrigento se siete distanti e non si riesce ci organizziamo e abbiamo trovato in giro noi un cazzo fai abbiamo trovato un server che vi metterò in descrizione il link per raggiungiamo anche infatti facciamo vedere dove è praticamente andremo a creare una sorta di arcipelago dove ogni scritto avrà ogni scritto e partecipante avrà una sua isola perso quindi questa è la nostra porzione di terra che peraltro lì dovremmo anche andare più avanti a esplorare cosa succede noi dovremo creeremo una serie di isole intanto non ne so mai accorto cresciuto un melone e questa presenti alla mia isola e comunque non so se chi l'aveva vista sa come era fatta in isola comunque che l'ho trovato per quello tutto ci ho portato io no che hai trovato questa non l'ho trovato io ma non mi hai portato a te ah è vero che l'hai trovato a te te mi hai portato in quell'altra ok I'm sorry prendiamo il nostro battello a vapore ok andiamo nella zona fk la mia parca ero lì io prima eri qua si gioco adesso sono lì mi sa in mezzo là però vedi che l'hanno tipo ristrutturato tipo eh vedi che manca lì su fatto un po' strano è vero zio qualcuno ci ha messo le zampe non va ma non cambiano cazzo grandissimo I'm sorry la barca va per il cazzo schizzo vai fanno di pesca che non funziona e che è fatta male è sbagliata va benissimo non cazzo è fatta ma è sparita la cesta qualcuno è passato e poi è iniziato a cullarci la roba comunque vabbè basta che non l'hai due anni non ha fatto io Giulia quanto ci avevo messo per far sto qua cazzo è tanto l'eternità poi questa è la zona fk perché è strafiga perché c'è se stai lì vanno di pesca intanto funzionavano spawner esatto poi farti anche la pietra cioè se tutti i giocatori sarà per iniziare basta che vengono qua e hanno già un po di pietra è una pietra che bisogna aver pazienza perché alcuni materiali schizzano via quindi però posizionandosi vicino come vedete si riesce a prendere e ci abbiamo anche il nostro quello lascio lì che storia è storico si chiama franco si chiama franco va bene e quindi semplicemente la c'è l'altro cipolle con cui c'è anche casa mia qui andiamo adesso a vedere poi tra l'altro quello lì è andato strano antico cioè quello lì si me lo ricordo ma quello lì non gioca da un po' può incurargli tutta la roba serio non sto divertendo qui è questo qua questa casa qua perché si fai claim dopo un po' ha fatto un sistema di gallerie spero non hai idea di guarda lì c'è anche una guarda destra lì destra 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 ancora è del land quella lì è andata è andata ma vabbè la sera lì ok comunque vedi che ci sono più i claim hai rotto un blocco di casa sua è vero zio è ok ma non romperla non c'è non rompergliela no 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 c'è entra dentro comunque se guardi ecco vedi io sono passato da lì di sotto aveva nascosto tipo tutto un sistema di mini e ragazzo puoi fare tutto ciao hai visto che gli manca la testa si vai piccone e beneficenza indistruttività è andata nel paletto da mangiare troppeggiando i guadagnini poi vediamo cosa abbiamo ci prendiamo poi cosa che mi faccio la forma di neve manca l'ultima testa quella sotto qua c'era un ah ma in un'altra stanza interessante cosa abbiamo qua abbiamo mi servono un paio di rotaie alimentate per la mia quelle mie normali farm di di cose e un paio di normali poi se tu proprietario di questo video sappi che poi prima poi te li restituirò non ti preoccupare bastanti ogni tanto c'è una canna da zucca e poi vai un paio di torce che servono sempre quella perché devo funzionare poi mi c'è una stecchina c'è una una stecchina va anche due senza c'è vado della carta se la biancava di così va benissimo nel formato c'è qualcosa qui è vuoto e quasi la night and frame con una mappa raga la mappa della casa è casa nostra quella lì no l'ho finita poi l'hai presa è casa nostra ma non ci sono io eh? non ci sono io non c'è la mia parte di Asciperago ah no non è casa nostra non è casa nostra ma va si dai cavolo quella lì è la casa di quell'altro è vicino ma la sua è qua cazzo fai così un secondo dammi un attimo si la prendi e vai a vedere esatto chi siamo cosa c'ha dottor via qua ehm ok non so dai zaccani è qua se mori fuori siamo poi ti rimando qua mi piace però si è vero che ho fatto bene è lo snodo perché l'ho riconosciuto lo snodo quelle in casa mia ci sono tutti ma si è vero è questo qua è vero eh va bene lì c'è tutto il sistema di isola in cui gli iscritti possono anche andare esatto quindi comunque adesso facciamo così la rimettiamo qua comunque è strafile sì mi farò anch'io ma è una stanza delle mappe ma io ho fatto io non so come fare con la mappa lì perché tu sei su console su play quindi cosa vuol dire è che le console sono stralimitate comunque ci ha fatto un sistema di gallerie incredibile sto qua tipo guarda tipo vai sotto quell'albero lì cioè l'ingresso era quell'albero lì sì ti giuro cioè io stavo scavando totalmente a caso poi a un certo punto sono piombato lì e era l'ingresso ma va sotto un botto tanto scavato mi lo chiamò bella madonna ha scavato ha fischia c'è anche di qua protezione stivali protezione respirazione però sono tutti esauriti una mela un sapling c'è la mela c'è la mela no mi salvano anche i sapling oppure vediamo se c'è qualcosa con l'etipa l'inferro niente di comunque c'è una casa di merda e sopra e lì c'è un sistema di gallerie che è una cosa incredibile vediamo qua sotto cosa abbiamo don't fall don't die grazie cosa c'è scritto lì sopra no lì ah freestone pickaxe to not waste durability on iron on diamond pickaxe si tra le cose c'è scritto tradotto c'è uno scheletro oh fioz della cavalletta ecco perché diceva non cadere non crepare si ma magna eh oh non cazzo non mangia mai Giulio bisogna dare a risparmio c'è crisi c'è crisi bisogna dare a risparmio ma tu sorella non posso neanche parare allora uno due tre un po' di armatura grazie grazie mi serviva la crece quando ha fatto una allora zio visto che hai un po' di bestiole sono gentile e ti metto anche un po' di torce ma secondo me potresti anche ciullargli la casa tanto non gioca più talmente tanto che oramai puoi prendergli tutto cosa mai mi porto via il porchetto quello si pone ma ti spone anche della tua isola perché devi volo tagli al porco prova a rompere lì che cazzo perché è chiuso lì così cioè guarda non è fatto anche da dio cioè una miniera fatta da dio non finita ma va bene fischia quanto cavoli va sotto e poi se vede all'altra parte si ricongiunge a casa mia tipo allora va sotto casa mia ah viene furbo di assullare la roba da te non può è tutto secondo me ha qualche mod questo qua perché sai esattamente dove sono in lineare cioè sapeva che lì sotto ah ecco usava l'X-Ray ecco usava l'X-Ray no non la usa perché non cioè sono bannate le mod però puoi usare la texture l'X-Ray allora spediamo di non perderci perché no vabbè in casa solo allora esatto avevo visto anch'io non puoi prendere la parola che c'è la diamante diamante chi te lo dice che non ce l'ho non c'hai la piccola in diamante tu sai che può rompere anche a mano Siliana devi installare un bel po' sì lo so però non te la do lo so cioè ci metti anni con piccoli in diamante con il diamante no non ci metti no allora a mano mi pare che ci metti tipo nove minuti diecima diecinove minuti comunque se vai di là a sinistra lì dove c'è l'acqua vai vicino a casa mia se devi trovare una pozza d'acqua eccolo lì lì te nuota fin su e continua però c'è uno quello lì ah quello sotto a casa tua server iscrivetevi al canale entrate nel server costruite la vostra isola vi conviene proteggerla se non volete perdere tutto e niente quindi iscrivetevi commentate commentate con hashtag voglio partecipare al concorso vi lascio con tanti dei like 6 1 2 2 3 2 Grazie.